Dal 15 novembre 1963 sino ad oggi, il Fotoclub Il Se Stante ha compiuto brillantemente il suo cammino, suscitando ora come sempre ammirazione, consensi e lusinghi e riapprezzamenti per la creatività e le idee innovative, per l'organizzazione e per la bravura dei suoi soci. Un lungo tragitto è stato percorso e per il Se Stante sono stati anni intensi di continuo sviluppo, di apprendimento, di critica e di cultura fotografica. 45 anni per un sudalizio fotografico possono sembrare tanti, ma non per lo spirito e lo stile che anima il Se Stante, ancora oggi proiettato verso il futuro, con sempre maggiore impegno nel divulgare e nel promuovere la fotografia. Il Se Stante ha svolto e svolge tuttora molteplici attività di rilievo e di risonanza nazionale. Le sale espositive del Se Stante permettono di presentare agli appassionati mostre, proiezioni e video proiezioni con una cadenza molto serrata. Alle serate di presentazione delle mostre partecipano sempre gli autori, a volte autori famosi, a volte autori emergenti, ma sempre pronti a raccontarsi e a rispondere a qualsiasi domanda. L'apertura delle mostre al sabato e alla domenica permette di conciliare la propria passione fotografica con gli impegni personali. I suoi spazi vedono manifestazioni collegate con altre attività. Appassionati di collezionismo, di pittura, di musica, trovano al Se Stante iniziative che legano le loro passioni al mondo della fotografia. Il Se Stante rappresenta per la città di Gallarate un importante e riconosciuto centro di cultura, per la provincia un raro punto di riferimento in campo fotografico. Il Se Stante è un club fotografico, è una galleria fotografica, è un punto di incontro per gli appassionati di fotografia. Non importa se siete l'ultimo dei principianti o il primo dei grandi fotografi, il Se Stante vi aspetta. Come dicono i suoi soci, tutto questo lo facciamo per noi, tutto questo lo facciamo per voi. Venite a trovarci! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!